Tommaso Sorrentino, portavoce del Comitato dell'Acqua di Quarto. Allora sabato una manifestazione presso la Chiesa Gesù di Vimmaestro per ribadire che cosa? Sì, noi vogliamo approfittare di questo videoannuncio per pubblicizzare questa iniziativa. Quindi sarà un'assemblea aperta a tutti i cittadini dove spiegheremo le motivazioni del ricorso che è ancora in atto. Quindi approfitteremo della presenza dell'Avvocato Maurizio Montalto, del coordinamento regionale Acqua Pubblica che ha curato e ha tutelato il ricorso. Quindi spiegheremo ai cittadini quali sono state le motivazioni che ancora ci portano avanti con il ricorso. Intanto però il Comune va avanti con delle gare e prosegue per la gestione della messa in opera dei contatori. Sì, appunto un conto è appaltare i contatori o la manutenzione. Altra cosa invece era l'impianto della delibera di fine luglio del 2013 dove si affidava tutto il servizio a questo consorcio Acquedotto SCPA. In dicembre abbiamo visto che la Terna Commissaria ha preso atto di un documento della società Acquedotto SCPA dove in questo documento si parla di una sospensione momentanea il che per noi significa che quell'impianto della delibera è ancora in piedi e in qualsiasi momento si potrebbe dare prosegue appunto alla privatizzazione del servizio idrico. Prima dell'intervista parlavamo di una possibile legge regionale che andrebbe in questa direzione? Sì, infatti approfitteremo di questa assemblea per parlare anche del disegno di legge che l'Aggiunta Caldoro ha messo in atto. Il disegno di legge dovrà essere discusso e quindi anche approfittando della presenza di Alex Zanotelli e del coordinamento regionale Acquapubblica parleremo delle iniziative di contrasto a questo disegno di legge che prevede la privatizzazione del servizio idrico in Campania.